La tua scrivania, la tua poltrona, il tuo armadio e la tua stanza. L'ufficio è uno dei luoghi in cui passi la maggior parte della vita e può condizionare il tuo stato d'animo. Caratteristiche e difetti del tuo ufficio possono compromettere il rapporto con il tuo lavoro. Lo stress da lavoro è una malattia riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Frequenti mal di testa, gastriti, irritabilità, insonnia sono molteplici i sintomi di un malessere legato al tuo ambiente di lavoro. Dipendenti depressi, insoddisfatti e poco motivati, riducono sensibilmente la qualità del proprio lavoro, a discapito dell'azienda. Lo stress da lavoro infatti porta a continue assenze, ritardi e lentezza di rendimento, con una concreta riduzione della produttività. Una soluzione però è possibile, riorganizzando gli spazi dell'ufficio, seguendo le logiche di produttività, sistemando gli ambienti in modo tale da creare spazi similari in base al lavoro svolto, semplificando l'attività in modo tale da dimezzare i tempi e sprechi e adottando un nuovo sistema di organizzazione col materiale funzionale, il tuo ufficio diventerà un ambiente efficiente, accogliente e comodo. Manutan ti offrirà supporto, alternative e prodotti di qualità, sarà il tuo alleato nel cambiamento. Ogni anno decine di aziende rivoluzionano i propri uffici per andare incontro alle esigenze dei lavoratori. Un'azienda di consulenza informatica, grazie a Manutan, ha incrementato la produttività del 25%. Per creare un ambiente che trasmetta serenità, è utile standardizzare le realizzazioni degli interni. Ogni area deve essere facilmente identificabile e riconoscibile. Utilizzare una segnalitica corretta rende il luogo di lavoro più sicuro e funzionale. Un nuovo sistema di organizzazione, che prevede una riduzione del materiale cartaceo o un sistema di archiviazione che possa agevolare il lavoro dei dipendenti. Zone ben definite con strutture adatte come gli armadi per archiviazione orizzontale, oppure quelli girevoli in sospensione. L'utilizzo di scatole e raccoglitori colorati facilita il mantenimento dell'ordine in tutto l'ufficio, rendendo i gesti automatici e facilitando il recupero dei documenti. I luoghi di lavoro risulteranno più ordinati e curati. I documenti non verranno persi e gli impiegati lavoreranno con maggiore serenità. Con piccole accortezze, una riorganizzazione degli spazi e un cambiamento graduale, il tuo ufficio può essere più funzionale, ordinato e piacevole. I tuoi colleghi saranno più sereni e soddisfatti e la tua azienda risparmierà facendo felici i tuoi lavoratori.